Bar Simonetti di Simonetti Pietro, Taranto, via Umbria 186 a B.C. Nuovo look con gazebo all'esterno, dove degustare, tra le tante iperlibatezze, il tradizionale caffè Illy e gli aperitivi guarniti. Colazione ricca di novità, muffin, donuts, ciambelle, pasticciotti leccesi, frullati, centrifugati e spremute di melograno e di zenzero. Organizzazioni di ricorrenze varie, vendita giornali, i nostri servizi, raccomandate postali in collaborazione con poste italiane, biglietteria a sud-est Trenitalia, CTP, AMAT, Viva Ticket con concerti e spettacoli e i tradizionali biglietti del Taranto Calcio, Attivazione Paypal, ricariche post-pay no limits, bonifici bancari, pagamento di bollettini vari, giochi, lotto, super e nalotto, calcio scommesse Matchpoint, rivenditore autorizzato di cupono Babaluba, Bar Simonetti di Simonetti Pietro, sempre con te, aperto 365 giorni all'anno. Grazie a tutti.